Ciao amici Mr. Gadget, mi chiamo Luca, sono pronto a presentarvi un prodotto molto interessante, ormai già nei negozi, si chiama Poco X3. Questo è un dispositivo che ho voluto provare a lungo, perché non mi nascondo, ho la massima invidia per alcuni colleghi che riescono a fare le recensioni del giro di 12 ore. Io ho bisogno di settimane per provare nel lungo periodo questi dispositivi e devo dire che Poco X3 è veramente molto interessante. Primo luogo perché costa poco, costa 229 euro nella sua versione più semplice, 269 invece in quella più completa. Ma le prestazioni vanno ben oltre il prezzo che viene richiesto. Prima di tutto diamo un occhio alla confezione. Dentro la scatola, oltre al telefono ovviamente, c'è una custodia in silicone, TPU, insomma in materiale morbido, molto spessa tra l'altro, che dà una notevole protezione. Poi sempre dentro la scatola c'è il cavo per la ricarica e per la trasmissione dei dati e un caricabatterie per la fast charge da 33 watt. Guardando il telefono ancora più da vicino, beh, la prima cosa che appare ovviamente è il display 6,65 pollici con una definizione Full HD, una razio 29 e refresh rate a 120 Hz. Certo, bisognerebbe provare una decina di videogiochi per avere una percezione corretta di questa definizione, ma aggiungo anche che c'è pure il touch con una reattività 240 Hz. Comunque una buona definizione del display, soprattutto una ottima leggibilità. Guardate, anche l'angolo di visione è veramente notevole. Le cornici tutto sommato sono abbastanza contenute, quindi è un buon schermo con caratteristiche che per questo prezzo non si trovano sicuramente in circolazione. Dietro invece quattro fotocamere messe in questa configurazione ADX con un sensore principale da 64 megapixel, un grand'angolo da 13, poi due sensori, il macro e quello di profondità, da 2 megapixel, ma insomma servono a poco. Questa soluzione con la scritta sulla parte posteriore ci dice insomma che questa è veramente una soluzione un po' particolare dal punto di vista del design, ma insomma ha il suo bel perché. Spessore notevole, vedete sul lato c'è il sensore per le impronte digitali, poi avete il volume rocker, il controllo del volume, dall'altra parte invece il cassettino ibrido per le SIM, o due SIM oppure una SIM con una microSD XC. Quali altre caratteristiche sulla parte inferiore, jack per le cuffie e connettore USB-C, che insieme ad un altoparlante, ecco c'è anche la caratteristica importante per questa fascia di prezzo perché questo è un dispositivo stereo che è una cosa che non capita esattamente tutti i giorni. Vedete l'altoparlante nella parte inferiore, accanto al connettore, come detto quella USB-C e poi l'altoparlante che viene accompagnato, questo altoparlante, con quello nella parte superiore. Vedete quella che è la capsula del telefono diventa anche un altoparlante per la riproduzione dell'audio, tra l'altro con un discreto livello qualitativo. Diciamo insomma un telefono completo, è plastica sul retro, ha un frame invece in metallo, tutto sommato una qualità costruttiva che è buona, tenendo conto insomma che questo è un dispositivo che costa poco più di 200 euro. Che cos'altro possiamo sottolineare? Che insomma lo spessore è ben oltre i 9 mm, il materiale è plastico ma tutto sommato la percezione è buona. Davanti c'è il Gorilla Glass 5 con il nuovo sistema operativo che è la Mui, che ha i suoi aspetti positivi e quelli negativi. Vi faccio un esempio, voi avete alcune delle funzioni che sono diciamo un po' sistemate in posti diversi, ma poi ci torniamo su questo. C'è anche la possibilità di spostare le icone, e poi ve lo mostro però dal menu perché non sono mai riuscito a farlo con le notifiche che mi sono arrivate per trascinare praticamente la notifica, farla diventare l'app vera e propria e poi guardarla sullo schermo. Ma diamo un occhio al menu, dicevo ci sono delle cose che sono strane. Guardate ad esempio, voi di solito per cambiare quanto tempo volete tenere acceso il display, andate in qualunque telefono Android nella voce display. E invece con Xiaomi e con la Mui dovete entrare in schermata di blocco per decidere insomma i tempi di accensione dello schermo. Niente di grave, ma vuol dire che vi dovete un po' adattare quando utilizzate questo telefono, che comunque è un telefono completo, un telefono che ha un sacco di funzioni molto interessanti. Vi faccio vedere ad esempio funzioni aggiuntive che vengono proposte attraverso il menu. Ad esempio avete i turbogiochi, qui potete selezionare quali applicazioni avranno il massimo della potenza disponibile quando voi volete giocare, ma non è l'unica delle funzioni speciali. Avete ad esempio questa, ecco questa io non sono mai riuscito ad utilizzarla, poi in realtà è l'uso del telefono di tutti i giorni. Potete, vedete, trascinare l'icona e posizionare, cioè la notifica in pratica, trasformarla nel contenuto della app e trascinarla dove volete sul display. E poi ancora gli strumenti vinte, quindi per avere i controlli e anche un miglioramento delle prestazioni quando ci sono i video e ancora un secondo spazio privato che potete utilizzare con una password per proteggere i contenuti sensibili che potreste avere sul vostro telefono. Quindi un software che è completo in tutti i suoi aspetti, bisogna solo un po' farci l'abitudine perché in alcuni casi, insomma, è un po' lentino. Ho detto del sensore con impronte digitali sul lato che è particolarmente veloce, non lo è invece lo sblocco con il volto che è solo 2D. Diamo un occhio alla fotocamera. Come sempre un menu completo, ci sono, abbiamo detto, 4 sensori. Sensore principale 64 megapixel, 2 che sono, insomma, sono un po' inutili, che sono quelli di profondità e macro, e poi il grandangolo. Come sempre c'è un menu super ricco, potete utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare le vostre foto, oppure potete scegliere tantissime altre modalità, dalla modalità di ripresa, ad esempio, video con la stabilizzazione che è elettronica, la modalità pro invece con tutti i parametri che potete gestire come volete, e dalla modalità pro potete anche selezionare le foto a 64 megapixel, vuol dire che in questo caso non avete il, diciamo, il pixel binning, quindi la fusione dei pixel 4 in 1, che invece viene fatta con le foto abituali. No, vedete, tantissime opzioni che avete a disposizione nella fotocamera, sapete che questa è una delle caratteristiche tipiche di questo dispositivo. La modalità notte c'è solo con la fotocamera principale, quindi quella da 64 megapixel non funziona con le altre. La qualità delle immagini ve le ho mostrate anche sulla recensione che ho presentato su Mr. Gadget, diciamo che è buona quando c'è molta luce, per il resto, insomma, diciamo che è in linea con il posizionamento di questo dispositivo sul mercato. Facile comunque l'accesso a tutte le varie funzioni, vedete la regolazione anche del tipo di dimensioni, che vale sia per le foto che per il ritratto che per i video. L'accesso alle opzioni è sempre molto molto semplice e questa è una delle cose ottime. Un telefono dunque completo, addirittura un sistema di dissipazione del calore all'interno del telefono perché il processore 732G con 6 giga di RAM non abbia mai alcun tipo di, diciamo, stress nell'utilizzo. È un telefono questo completo nella sua dotazione, gradevole da utilizzare. Abbiamo detto, insomma, il peso, 215 grammi, non è proprio, insomma, leggerissimo, però nel complesso, diciamo che la qualità di costruzione, il software e tutto ciò che offre, fa di questo telefono un dispositivo, secondo me, molto interessante. Tra i prodotti da comprare oggi con un prezzo contenuto, questo è senza dubbio uno dei migliori. Grazie a tutti.